Ben trovati nel cuore pulsante dell'informazione online, benvenuti in Top 5 News Italia. Federico Rossi bacia una fan al Team Summer Hits. È stato un bel momento. Federico Rossi commenta il bacio dato alla ragazza in prima fila durante l'esibizione del Team Summer Hits. Il video ha scatenato i social, dividendo l'opinione tra chi ha pensato alla solita trovata pop per catturare l'attenzione e chi ha reputato il gesto un abazzardato. Sta di fatto che l'identità della ragazza è finita nei radar e dopo qualche ora si è ipotizzato fosse o un'attrice messa lì appositamente per creare l'interazione con lui o addirittura la sua nuova fidanzata, posizionata nelle prime file senza cellulare in mano proprio perché molto vicina al cantante. A quanto pare nessuna delle due versioni ha trovato riscontro nelle parole di Federico Rossi che ha dichiarato «Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l'ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente, anche perché non sono una persona che fa cose estreme. Per me era show e ritornando al discorso del palco che mi è mancato, succede che quando sono lassù cerco di lasciarmi andare completamente». Alla domanda su se conoscesse da prima del bacio la ragazza in questione ha risposto «I nostri occhi si erano già incrociati. Dopo il concerto mi è venuta a salutare. Era serena. Credo che sia stato un bel momento. Mi ha dato una scossa emotiva che mi è piaciuta. La conoscenza sta proseguendo. Posso dirti che ci sono buone vibrazioni», ha concluso Federico Rossi. Il bacio tra un cantante e una fan è un classico del pop, una trovata che spesso viene utilizzata per catturare l'attenzione dei media e dei fan. Nel caso di Federico Rossi, il gesto ha avuto sicuramente l'effetto desiderato, facendo parlare di lui per giorni. È difficile dire se il bacio sia stato spontaneo o meno, ma è chiaro che il cantante si è lasciato andare al momento, senza pensare alle conseguenze. Il bacio tra un cantante e una fan può essere visto in molti modi. Alcuni lo vedono come un gesto romantico, mentre altri lo considerano un'invasione della privacy. In definitiva, spetta a ognuno decidere come interpretare il bacio tra Federico Rossi e la ragazza del Team Summer Eats.